Benvenuti presso la sede dell'Associazione Centro Ascolto Stelle del Mare. In questa domenica di poveriggio, Stelle del Mare si è confrontata con i suoi soci per programmare le future iniziative che verranno avviate nel mese di settembre fino al dicembre 2018. Questo perché attraverso il confronto, attraverso l'ascolto, ogni socio ha potuto manifestare le proprie intenzioni e diventare parte attiva della vita dell'Associazione. Ringrazio a tutti i soci presenti che hanno confermato l'incarico e il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e per chi vuole informarsi di tutte le nostre iniziative si può collogare presso la pagina di Facebook Associazione Centro Ascolto Stelle del Mare. Questa sera concludiamo augurandovi una buona estate a tutti i nostri amici, a tutti i nostri utenti e a tutte le famiglie dei nostri soci.